E come ricorda quella Milano dei sabati invivibili, il centro della città, l'infuriare di opposti estremisti, come ricorda? Li ricordo come un periodo molto triste anche perché io sono un borghese e vedere la borghesia che amoreggiava, che amoreggiava con gli estremisti, con i brigatisti rossi eccetera eccetera perché questo faceva chic, ma non soltanto per questo, perché in Italia si sta sempre dalla parte di chi picchia, non di chi piglia le botte. Ecco ma la contestazione, fu questa contestazione del 68, fu l'incubatrice, una delle incubatrici di quello che poi diventerà più tardi il terrorismo? Ma questo non c'è assolutamente dubbio, il primo fenomeno fu il 68, il 68 partorì poi il terrorismo, il brigatismo rosso eccetera eccetera, questo non ci sono dubbi, dirò di più, i più seri e forse gli unici seri furono quelli che poi diventarono dei terroristi e che quindi rischiarono la loro vita, almeno gli altri erano, erano quello che diceva Pasoli e dei figli di papà, cose che facevano. Ecco ma questo, questo 68 però in qualche modo che viene anche dall'America, dagli scritti di Marcuse, questo 68 in qualche modo ha cambiato il mondo, ha cambiato perlomeno gli usi del mondo. Ma che cosa ha lasciato questo 68? A me mi pare che non abbia cambiato nulla, gli ideologi del 68 come Marcuse, come Sartre eccetera, cosa hanno lasciato? Cosa si legge ancora di questi uomini? Non si legge nulla, perché in fondo non hanno detto nulla, quindi non so che cosa abbia lasciato il 68, se vado a cercarlo non lo trovo. Cioè non ha niente di nemmeno in piccolo, di lontanamente comparabile a quello che può essere stata la rivoluzione francese? Ma no, non facciamo paragoni, non facciamo paragoni, la rivoluzione francese fu un grosso fatto serio, positivo, negativo, con un fatto drammatico, vero, e come no, che poi è traboccato oltre la Francia, ha segnato un'epoca, ma no, ma no, al 68... Alla contestazione studentesca si agganciò, senza mai veramente saldarsi, con essa l'autunno caldo sindacale del 1969. Era in corso il rinnovo dei 32 importanti contratti di lavoro e la loro discussione si svolse in un clima di pressioni e di intemperanze. I sindacati operai erano scavalcati dalle spinte narcoidi della base. I comitati di base esigevano tra l'altro salari uguali per tutti, in base al profondo principio che tutti gli stomachi sono uguali. In questo clima, dopo incidenti anche molto seri, furono firmati i contratti. Senta, per il disordine e le abdicazioni padronali, Giovanni Agnelli disse, riferendosi all'autunno caldo sindacale, quello fu l'inizio di dieci anni disastrosi di brutalità e di violenze in fabbrica, che fu corretto solo dopo più di 3.000 giorni. Ecco, questo le sembra troppo pessimista? No, non era pessimista, era una visione realistica di quello che stava per succedere. L'unico punto che si può fare a Agnelli è questo, di aver visto solo il lato negativo di questa cosa, naturalmente ci fu e fu quello che dice lui, di non avere previsto la reazione che certamente questo avrebbe provocato e che proprio a Torino si manifestò con la discesa in campo dei 40.000 che posero fine al carnevale sindacale della città e dell'Italia. Quei 40.000 che alla fine esasperati, che erano poi i gradi medi dell'azienda, della Fiat, non erano mica i capi, erano i dirigenti intermedi, così che alla fine esasperati scesero in campo e fecero capire che c'erano anche delle altre forze e lì finì il carnevale del pansindacalismo. Quegli anni furono anni molto pesanti. E furono anni pesanti sì, soprattutto per l'economia italiana, ma anche per la vita, per la vita normale, era difficile aggirarsi per le vie di Milano, se si veniva riconosciuti si correvano dei grossi rischi, insomma. Quindi brutti anni. Brutti anni. Lei quindi non ha nessun ricordo piacevole di quel momento del 60? No, io non ho nessun ricordo piacevole, anzi ho dei ricordi molto sgradevoli. e devo dire che fui messo nella condizione di dovere abbandonare il giornale in cui avevo sempre militato, così per fondare un'altra operazione o impresa che sembrava impossibile. E invece grazie a Dio, ma non fu io solo, fu tutto un gruppo che scelse me come conduttore, come capofila, ma insomma io ero affiancato bene, però certamente furono anni estremamente difficili, anni in cui io incontravo per strada dei vecchi amici che fingevano di non riconoscerli, perché era meglio non avere a che fare con uno come me. Nel febbraio del 1969 il dodicesimo congresso del Partito Comunista Italiano nominò segretario Enrico Berlinguer classe 1922, un segretario giovane dopo l'anziano Luigi Longo. Nel 1969 Enrico Berlinguer prende il timone del Partito Comunista Italiano, un uomo giovane, ma che tipo di uomo si poteva definire quest'uomo che aveva assunto la guida del maggior partito comunista dell'Occidente e fu costretto, lui fu costretto allo strappo dall'URSS o volle questo strappo per una sua visione politica? Ma queste sono domande sempre imbarazzanti perché gli uomini politici, tutti gli uomini politici sono portati a considerare e a far considerare le scelte che gli sono imposte dalle circostanze come gesti voluti da loro, come scelte fatte da loro. E qui in questo caso forse si è trattato di questo, però la verità storica ci impone di puntualizzare certe cose perché l'autore dello strappo non fu precisamente lui, anche se lui poi lo eseguì, ma il vero autore dello strappo fu Longo, Longo era stato il successore di Togliatti. Certo, cioè tra Togliatti e Berlinguer il segretario fu Longo. C'è stato Longo, perché Longo prese il posto di Togliatti? Perché Longo era stato il più fedele esecutore di Togliatti da sempre, lo aveva seguito a Mosca, insieme avevano vissuto tutto il periodo delle purghe stalinista a Mosca, fu sempre l'esecutore fedele e rigoroso delle direttive di Togliatti, aveva seguito Togliatti in Spagna, dove Longo era stato un valorosissimo e anche duro comandante dei volontari comunisti nella guerra civile, eccetera. quindi siccome Togliatti lasciava un vuoto enorme, perché Togliatti era il capo indiscusso e indiscutibile del partito comunista italiano, in quanto era un fiduciario di Stalin, l'uomo che aveva vissuto accanto a Stalin, per dare il senso della continuità del partito alla morte di Togliatti fu l'elezione di Longo. Che tipo di uomo era Longo? Longo era, poi è stato considerato, ingiustamente secondo me, come un uomo politicamente da poco, il suo segretariato fu considerato un segretariato di transizione, come se l'uomo non avesse rilievo politico e questo non era assolutamente vero, intanto aveva buon corredo di studi, lui aveva frequentato la facoltà di ingegneria, era stato vicino alla laurea, poi aveva lasciato per dedicarsi completamente alla politica e al servizio del partito. Era un uomo che, sebbene eseguisse scrupolosamente gli ordini di Togliatti, aveva una sua concezione politica e fu un buon sostituto di Togliatti in quel periodo difficile. Lo strappo avvenne nel 68, quando lui era segretario da quattro anni, quando l'insurrezione cecoslovacca venne schiacciata dall'armata rossa che... di Togliatti in quel periodo difficile.